Nel primo semestre del 2017 prosegue la fase di moderata crescita dell'economia calabrese iniziata nel 2015, sebbene i divari negativi rispetto ai livelli precrisi permangano ampi, e quanto emerge dai dati elaborati da Banca Italia e contenuti nell'aggiornamento congiunturale del primo semestre 2017 sull'economia della Calabria. Non si tratta ancora di un trend, ha detto il direttore della filiale calabrese Sergio Magarelli, ma della conferma di un andamento positivo. Questo andamento positivo è abbastanza diffuso, in realtà è trainato da due grandi settori, ma si è diffuso poi in tanti altri settori. Quali sono questi due settori cavalli di razza? Sicuramente il turismo. Un'annata buona del turismo ha favorito sicuramente questa crescita economica con tutto l'indotto del turismo. E l'altro settore è un settore, non più che un settore, è un comparto, un'attitudine, anzi potremmo dire che è quella dell'aumento dei consumi. Segnali di miglioramento più contenuto dall'industria con l'aumento della produzione e dall'export che ha registrato un'ulteriore crescita pur rimanendo sui livelli ancora modesti. È cresciuta anche l'occupazione dopo la flessione della seconda metà dello scorso anno. I livelli occupazionali quest'anno hanno mostrato, dopo la lieve flessione del secondo semestre del 2016, una ripresa, quindi un andamento positivo. Abbiamo parlato di dati tutti positivi, però quello che vorrei dire, il warning mi consenta di farlo, ma non per pessimismo, ma per dare una informazione il più veritiera possibile, il più reale possibile, per quanto ovviamente è nelle nostre possibilità di farlo, noi abbiamo comunque dei ritardi strutturali, dei deficit, delle distanze da quelle che sono ovviamente l'economia anche del nostro stesso Paese piuttosto significativi. Ecco, questi ritardi vanno colmati, vanno colmati, mi consente di dirlo, con un vero e proprio salto dal fosso. Un fosso in cui l'economia calabrese è stata relegata da anni di inadempienze, di passività, di modi di fare che l'hanno tenuta a distanza da quelli che sono gli obiettivi raggiungibili che potrebbe avere.